In un'estate già avviata, cambia il vertice dell'associazione albergatori pesarese. Nell'assemblea dell'APA tenutasi al Charlie Urban Hotel è avvenuto il passaggio di presidenza dal dimissionario Paolo Costantini a Marco Filippetti del gruppo Lindbergh Hotels che controlla in città l'Excelsior, il Nautilus e lo stesso Charlie. Filippetti è stato votato all'unanimità come nuovo presidente degli albergatori e nel suo discorso di insediamento è partito proprio dall'unità di intenti che dovrà caratterizzare il miglioramento del turismo cittadino. Da un dialogo con l'entroterra a un obiettivo prioritario della destagionalizzazione. Il vero neo della pesaro turistica è la stagionalità perché ovviamente con tre mesi di stagione è difficile fare turismo. Quindi anche il punto che ho toccato sulla destagionalizzazione, cercando di convolgere anche altri attori per cercare di fare un turismo annuale, va proprio in quella direzione. Un percorso di collaborazione sostenuto in assemblea anche dai vertici di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti e Agnese Trufelli, al sindaco di Pesaro Andrea Biancani fino all'assessore regionale Francesco Baldelli che ha riconosciuto il ruolo cruciale del turismo pesarese nell'intera economia marchigiana. Collaborazione sostenuta anche dai consiglieri comunali di centrodestra Michele Redelli e Antonio Bartolomei. Fra i temi da affrontare è la valorizzazione dell'auditorium Scavolini così come la vitrifligorena asset strategici per le convention. Altro nodo prioritario è quello del salto di qualità nel comunicare Pesaro come destinazione turistica. La comunicazione a livello turistico sta cambiando notevolmente. Ovviamente i social e gli investimenti in web la stanno facendo da padrona fondamentalmente. Nel 2024 è difficile ancora pensare, come dicevo prima, che un prezzo barrato possa portare turismo di qualità. Porta turismo ma è un turismo non qualitativamente dove vogliamo portare questa città. Sapersi comunicare intesa come strategia cruciale anche nel recupero del turismo estero. Stiamo notando che comunque l'interesse per lo straniero nella riviera sta ritornando. Quindi di questo siamo molto contenti e dobbiamo essere lì bravi e pronti a cercare di pescare questo turista, soprattutto tedesco, austriaco e svizzero.